Nella precedente video-lezione abbiamo conosciuto la posizione metafisica di Tommaso d'Aquino. In questa puntata ci soffermiamo sulla sua concezione di Dio, vedendo diverse teorie sia sull'esistenza di Dio sia sulla sua azione nel mondo. Partiamo prima di tutto con quelle che egli definì le cinque vie per spiegare l'esistenza di Dio, esposte magistralmente nella sua opera Somma Teologica. Dimostrare l'esistenza di Dio è necessario e deve essere fatta a posteriori, ossia deve partire dagli effetti sensibili dell'uomo, ovvero da ciò che è primo per l'uomo. La prima via è quella cosmologica che parte dall'assunto aristoteliano secondo cui tutto ciò che si muove è mosso da altro. Ci deve però essere un motore primo immobile che muove tutte le altre cose e questo motore è Dio. Questa teoria era già stata sostenuta da altri scolastici come Abelardo, Maimonide e Alberto Magno. La seconda via è la via causale secondo cui ci deve necessariamente essere una causa efficiente primaria, altrimenti bisognerebbe procedere all'infinito senza trovare però una causa primaria. Questa causa efficiente incausata prima è Dio. Anche questa teoria parte dalla filosofia aristotelica ed era stata già ripresa da Avicenna. La terza via è la via legata al rapporto tra possibile e necessario. Le cose possibili sono contingenti alle cose necessarie in quanto esistono proprio perché esistono delle cose necessarie. Di queste cose necessarie alcune sono necessarie in altro nel senso che sono necessarie nel rapporto con uno o più cose possibili, ma deve esistere una cosa necessaria che è necessaria di per sé perché è un ente necessario e questa cosa è appunto Dio. Questa teoria è stata ripresa da Avicenna. La quarta via è la via legata ai gradi di perfezione perché le cose hanno dentro di sé il meno e il più del vero e del bene, che abbiamo visto essere due caratteristiche che stanno molto a cuore a Tommaso. Ogni cosa ha quindi un proprio grado di perfezione dettato dalla verità, dalla bontà e dalle altre perfezioni. Però ci deve necessariamente essere un grado di perfezione massimo, ossia la punta più alta della piramide, così come nel caso del fuoco che è la causa di tutte le cose calde. E questa perfezione somma è Dio. Questa teoria proviene dalla filosofia platonica, ma è stata desunta successivamente da Aristotele. La quinta e ultima via è quella legata alla finalità delle cose. Le cose naturali del mondo non sono intelligenti, ma allo stesso tempo hanno una finalità, ossia hanno uno scopo, un obiettivo. Questo obiettivo deve essere necessariamente governato da qualcuno, dotato di intelligenza, che muove metaforicamente le cose del mondo verso il loro fine. Esattamente come una freccia che ha bisogno di un arciere per essere scagliata. Questa intelligenza ordinatrice è Dio. Questa teoria proviene probabilmente da Giovanni Damasceno e da Averroè. Ricapitoliamo in questa slide le cinque vie per spiegare l'esistenza di Dio. Via cosmologica, ci deve essere un motore primo immobile che muove tutto. Via causale, ci deve essere una causa efficiente primaria. Via legata al rapporto tra possibile e necessario, deve esistere una cosa necessaria di per sé. Via legata ai gradi di perfezione, ci deve essere necessariamente un grado di perfezione massimo. Via legata alla finalità delle cose, ci deve essere un'intelligenza ordinatrice. Nella prossima puntata ripartiremo dalle cinque vie per delineare gli attributi di Dio. Ti aspetto nella prossima puntata.